dice che potrebbe essere uno dei favorevoli visto che è stato anche appoggiato a quota fissa cavalli che prendono posto all'interno degli stalli di partenza l'ingresso di Niagara Mouse numero 11 dello schieramento Magic Timing Denarius ha il cap bianco, ce l'ha il Denarius il cap giallo tanking, sembrerebbe questo preso posto nel frattempo Niagara Mouse, Magic Timing Denarius Denarius, eccolo tanking deve entrare tanking Wizard of Love fuori ancora Danny Ocean Mario Sanna per Simone Fiorentini ecco la famiglia Brive, in questo caso Cristiana che segue le corse dalla sua postazione che accanto alla mia tanking che prende posto, Terenzia che è dentro si sta per andare agli ordini dello start e manca soltanto Danny Ocean tutto è pronto, agli ordini dello start e via gli uomini a posto dietro le frasi di Rito partiti non brillante Silver Mission anche Wizard of Love tra i primi invece Security Reason dal centro Niagara Mouse che va in vantaggio dal largo converge anche tanking in prima linea Niagara Mouse, sentiero lucente tanking all'esterno però ancora più svelta di tutti Terenzia senza strappo Terenzia va su Niagara Mouse e due linee a precedere Magic Timing sentiero lucente Wizard of Love tanking Denarius a largo Danny Ocean tra i cavalli Security Reason poi Silver Mission Folky in coda sentiero lucente ovvio sulla curva Niagara Mouse in seconda corsia Terenzia in terza invece Wizard of Love per Varky tanking che precede Security Reason quando si entra in dirittura Niagara Mouse all'interno poi Magic Timing tanking Terenzia Wizard of Love Danny Ocean con in mezzo la pista Terenzia che prova l'allungo in seguita da Wizard of Love all'interno tanking all'argo di tutti il recupero di Silver Mission con Terenzia che è in vantaggio su Tenging all'esterno prova Silver Mission a scattare Silver Mission che scatta su Niagara Mouse bisogna sempre andare a prendere Niagara Mouse lo scatto di Silver Mission che vola nel finale Silver Mission a guante e batte a Niagara terzo Denarius ora vi confermo la linea di Badram è una linea solida perché Silver Mission che è settimo nel Pisa vince questo handicap limitato dimostrando che almeno se qualcuno voleva delle conferme che la linea del Pisa non è poi così male anche se è un handicap limitato anche se da 11 kg è una gara mouse battuto solo a fil di palo terzo Denarius 2.11.10 quarto Danny Ocean è tutto grazie Grazie.